Benvenuti a questa relazione che ho attivato per affrontare il tema del compenso all'Avvocato con i nuovi parametri. Siete tutti a conoscenza certamente che dal 2 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto sulla gazzetta ufficiale, quindi dal 3 è entrato in vigore il nuovo virgolettato, devo usarlo, parametrario, i nuovi parametri perché non possiamo più usare il termine da rifario perché è diventato ormai da due anni a questa parte una parolaccia, quindi parliamo di parametri. Per fare il punto della situazione a mio avviso bisogna partire un attimino da alcune premesse, poi approfondiremo naturalmente i parametri numerici come io li ho definiti in una pubblicazione fatta su questo argomento e i parametri generici. I parametri ministeriali con riferimento alle varie fasi, con riferimento agli scaglioni, i parametri generici sono quelle opzioni che ci consentono di aumentare il compenso con riferimento a determinate particolari attività posti in essere. Prima di arrivare però ai parametri è opportuno un attimino, se fuori velocemente, andare ad individuare i riferimenti normativi, i riferimenti normativi che ci dicono esattamente qual è l'attuale situazione. Se andiamo a fare un'analisi precedente scopriamo che i riferimenti normativi o meglio che il sistema tarifario negli ultimi anni ha avuto diverse variazioni, ci sono 5 periodi, l'ultimo periodo parte dal 3 aprile 2014, il precedente è il periodo di intermedio che va da febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 247, la nostra legge professionale e precisamente dal piccolo 13 fino all'entrata in vigore dei nuovi parametri, quindi del DM 55 del 2014, in quanto nel periodo precedente naturalmente vigeva il sistema stabilito dal famoso famigerato DM 140 del 2014. Dicevo che è importante soffermarsi un attimino sui riferimenti normativi perché da là poi possiamo individuare quelle che sono le problematiche ricadute sull'argomento. Il primo riferimento normativo che è rinasto sia pure modificato, anche questo nelle varie fasi, prima dalla legge Bersani e poi dall'articolo 9 della legge 27 con l'abrogazione del sistema tarifario e naturalmente il codice civile, il 2233 del codice civile. Perché è importante il codice civile? Nel sistema del codice civile fino all'abrogazione delle tariffe era previsto un sistema gerarchico privilegiato diviso sostanzialmente in quattro opzioni, in quattro possibilità, la prima era data dall'accordo scritto con il cliente, la seconda dalle tariffe, le vecchie famose tariffe che ricordiamo l'ultimo ripeto del 2004-127, poi dagli usi e le consitudini fino alla determinazione del giudice. Questi erano nel sistema gerarchico che è rimasto in vigore naturalmente fino all'abrogazione con l'entrata in vigore dell'articolo 9 della legge 27 del 2012 che ha abrogato con un colpo di sfugno tutto il sistema specialistico del tarifario previsto per le professioni regolamentate e quindi a questo punto i sistemi privilegiati, o meglio i sistemi gerarchici, il sistema previsto dal 2233 del codice civile si basa soltanto su due possibili soluzioni, la prima è sempre l'accordo che è il criterio preferenziale su tutti, sappiamo benissimo che l'accordo fatto tra l'avvocato e il cliente determina e poi ce lo ribadisce naturalmente la normativa 247 con l'articolo 13 e lo ritroviamo ancora una volta nel DM 55 del 2014 e l'accordo tra l'avvocato non può essere intaccato, modificato o diciamo, usiamo un termine ancora più simpatico, nessuno, nel magistrato, nel consiglio dell'ordine colpare di concretà può metterci il becco all'interno di quella determinazione. Il secondo invece è la determinazione del giudice. La determinazione del giudice quindi si rifà fino al 2 aprile del 2014 al DM 140 dal 2 aprile successivo, dal 2 aprile del 2014 al DM 55. La prima importante caratterizzazione da mettere in evidenza immediatamente è premista nel 9 DM all'articolo 28 che è la disposizione temporale dove è stabilito un importante principio sulla vigenza, sull'entrata in vigore o l'utilizzazione del decreto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Conosciamo tutto la determinazione, o meglio la giurisprudenza ormai costante che ha continuato a parlare anche nell'ultimo periodo di unicità della liquidazione del compenso, tanto è che la Cassazione con una serie di sentenze, ultima del dicembre dell'anno scorso, ha confermato il principio che non essendo terminata l'attività, anche con la fattispecie particolare, il sistema da applicare per determinare il compenso era quello vigente, quindi il DM 140 e non bisognava naturalmente andare a vedere l'attività svolta, così come veniva precedente con la distinzione tra i diritti e gli onorari. Quindi l'IDM con l'articolo 28 fissa questo principio del momento della liquidazione. Naturalmente sarà oggetto di grande discussione il momento della liquidazione poiché a mio avviso il momento della liquidazione è collegato all'effettivo momento in cui un'autorità, che può essere l'attività giurisdizionale o il Consiglio dell'Ordine del Parere oppure lo stesso avvocato procede con una certa attività autonoma inviando la parcella, rinunciando all'incarico oppure ricevendo una revoca dell'incarico, potrebbe determinare il momento in cui si posiziona il punto, il momento esatto in cui deve entrare in vigore il DM 55 del 2014. Non vi è dubbio che rispetto al decreto precedente 140 abbiamo grossi incrementi, fino al 70-80% in alcuni casi, abbiamo una regolamentazione molto più compatta e ben più precisa, abbiamo una serie di tabelle, numerose tabelle, circa 27 tabelle, una penale, il resto giudiziario e il resto giudiziario, quindi abbiamo poi la possibilità di aggiungere il famoso rinvorso spese forfettari fino al 15%. Devo ritornare adesso ancora indietro per dire che è la normativa che stabilisce l'articolo 13 al comma 3, ci ricorda che è la patruzione del compenso illitero, a questo punto però l'articolo 13 stesso ci dice che ci stabilisce le termine, stabilisce le modalità con cui può essere determinata questa patruzione tra l'avvocato e il compenso. Quindi è la prima ipotesi, cioè la possibilità per l'avvocato di stipulare un accordo con il cliente e che naturalmente determina la regolamentazione dello stesso accordo stipulato. Il legislatore con l'articolo 13 parla infatti di possibilità di stabilire la patruzione a tempo, la patruzione in misura forfettaria, per convenzione, per singole fasi, a percentuale sul valore dell'affare. Sottolineo a percentuale sul valore dell'affare perché il comma successivo, il 4, rientroduce il divieto del patto di quotarite che era stato abrogato dalla legge Bersani e quindi era stato ampiamente utilizzato. La distinzione a questo punto tra la determinazione o la patruzione a percentuale sul valore dell'affare rispetto al patto di quotarite ha determinato diverse problematiche o diverse interpretazioni. Credo che con questa formulazione voi perché il legislatore ha lasciato quella frase a percentuale sul valore o voi perché è stata inserita appositamente potremmo ipotizzare due sistemi di utilizzazione del patto di quotarite che è determinato da una percentuale da stabilirsi rispetto all'affare e dalla impossibilità, a mio avviso richiamando il 1621 del Codice Civile che prevede l'impossibilità di fare degli accordi sul bene oggetto della controversia per i magistrati, per i magistrati e gli avvocati. Per semplificare possiamo dire che io posso fare un patto di quotarite o un accordo percentuale stabilendo il 20% della liquidazione dell'importo che verrà corrisposto al cliente, non posso però fare un accordo per esempio in un giudizio per l'acquisizione, la divisione di due beni immobili, non posso certamente fare un accordo in cui stabiliamo che un bene immobili resta a me e un bene immobili per attenire al cliente. La distinzione quindi è abbastanza facile da individuare, è rimasto naturalmente anche perché non trovo traccia di vieti, il sistema del palmario, la possibilità quindi di predisporre un contratto misto con un compenso predeterminato a forfè con una palma, con un regalo che può essere fatto e che viene fatto in relazione poi ad una serie di conseguenze o di vantaggi che vengono in evidenza nell'ambito dell'attività professionale. Ho parlato sia pure velocemente, mi riservo poi di fare un'altra relazione e un'altra occasione specifica sul sistema di determinazione del compenso per l'avvocato collegato ad un accordo. Invece quello su cui oggi volevo soffermarmi riguarda il sistema dei parametri, parametri indicati dal Ministero della Giustizia con il decreto emanato e pubblicato sulla rezzetta ufficiale e che di provenienza possiamo dirle da parte del Consiglio nazionale di Forense e il Consiglio nazionale di Forense che a maggio del 2013 ha fatto una proposta dei nuovi parametri, naturalmente questo discorso non è stato completamente recepito dal Ministero con riferimento specialmente agli aumenti che erano molto più sostanziosi rispetto a possibilità di quadruplicare o duplicare il compenso in relazione ai certi eventi, però in linea di massima possiamo dire che il Ministero di Venezia e Giustizia con il nuovo DM55 ha recepito moltissime delle indicazioni che erano di provenienza formulate con la delibera del CNF. Ancora altre caratterizzazioni da porre in evidenza che sono delle caratterizzazioni generali, la possibilità per l'avvocato di svolgere attività gratuita che è prevista proprio dall'articolo 13 all'inizio, la possibilità poi di prevedere o meglio la previsione di rimborso delle spese di lista, quindi documentate, degli oneri e contributi anticipati e poi è stato anche inserito il rimborso delle spese forfettarie. L'articolo 13 aveva demandato a comma 10 alla determinazione del Ministero su una proposta di un minimo e un massimo il decreto ministeriale come parla di. Determinazione naturalmente è in misura del 15% sulla determinazione del compenso. Dobbiamo poi fare altre riflessioni sul nuovo sistema dei parametri perché il legislatore con l'articolo 13 e poi gli estensioni dei decreto ministeriali hanno ribadito un principio molto importante in cui viene messo in evidenza, tra virgolette, la non obbligatorietà del sistema previsto attualmente, del sistema parametrario come io lo chiamo, ma la possibilità di definire determinazione da parte dell'organo che ha emette il provvedimento con ampia potere di discrezionalità. Questo creerà naturalmente una serie di enormi problemi che vedremo poi successivamente con la giurisprudenza che verrà in evidenza. Ancora altre caratterizzazioni di principi generali riguardano la possibilità, stiamo parlando sempre, della mancanza dell'accordo, quindi in quest'altra ipotesi residuale che è la mancanza dell'accordo attiva il decreto ministeriale, la possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine per un tentativo di conciliazione ed è stato ripristinato anche il principio della possibilità da parte dell'Avvocato di chiedere il parere di congruità al proprio Consiglio dell'Ordine. L'ultima norma e la comma 8 importante prevede la reintroduzione, spessamente prevista dalla legge, del nostro famoso principio della solidarietà, il famoso è l'articolo 68 della legge professionale, quindi il legge senatore ha introdotto questo nuovo principio che rimane attivo anche nel sistema di liquidazione con il nuovo decreto ministeriale. Fatta questa premessa, è molto importante sui principi generali, potremmo fare una piccola riflessione su quelle che sono invece le problematiche connesse al decreto stesso, anche in questo caso abbiamo una distinzione tra le attività, questa volta il decreto parla di attività giudiziale e non di attività come è conosciuta da noi nell'altra formulazione civile, amministrativa e tributaria, poiché l'estensione del provvedimento è ritenuto di inserire il termine attività giudiziale per comprendere altre attività che non sono quelle civili, che potrebbero essere davanti alle varie autorità o poi davanti ad autorità stranile e così via. Poi abbiamo naturalmente la regolamentazione con una serie di articoli dell'attività penale e le disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale che non era stata prevista da parte del Ministero con il decreto 140. Poi abbiamo una serie di tabelle che sono le tabelle con i parametri dove nel decreto è indicato un importo che è collegato ad ogni fase. Nel decreto noi troviamo anche, così come era formulato, una distinzione tra le varie fasi e troviamo il principio ribadito che la liquidazione deve avvenire, la determinazione della liquidazione con riferimento all'attività effettivamente svolta e quindi con riferimento alle fasi. Non elenco le tabelle, vanno la giudizia di pace, l'atto di precetto, procedimenti monitori eccetera. Quello che sono circa, sono 28, così come le ho considerate io perché ho inserito una tabella che caratterizza tutte le attività che è lo studio giudiziale di cui parleremo fra un attimo e poi, scusate, non lo studio giudiziale, le trasferte di cui parleremo fra un attimo e poi tre tabelle che riguardano lo studio giudiziale. Mentre la tabella penale è accorpata dove ci sono indicate le varie autorità e i vari procedimenti che vengono usati. Abbiamo detto che, tornando al settore giudiziale, che anche in questo caso il legislatore li ha divisi per fasi, quindi indicando i parametri numerici ben definiti per fasi e per scaglioni. È stata eliminata la fase sul post sentenza, per cui è stata inglobata nell'ultima fase prevista e poi nella fase esecutiva invece è stata inserita un'ulteriore fase proprio per tenere distaccate e creare le meno confusione possibili. Le fasi sono rimaste sostanzialmente quelle che erano già previste dal precedente decreto, quindi abbiamo la fase di studio della controversia, l'introduzione del giudizio, gli struttori è fase decisionale, queste per le questioni civili poi cambiano naturalmente in relazione ad alcune attività. Qual è il problema su cui bisogna fare una riflessione e su cui bisogna fare particolare attenzione? Abbiamo detto che il legislatore con l'articolo 13 e poi l'estensione del decreto ministeriale, il ministro chi per lui ha stabilito e ha fissato un inserito o meglio ancora nella varie modalità di determinazione un concetto, un termine abbastanza, io definisco valordo, però mi dicono che doveva essere inserito proprio per staccarlo dall'eventuale obbligatorietà da parte dell'organo, il concetto di regola. Troverete nel decreto ministeriale sempre di regola, di regola è stabilito così, di regola l'importo è questo, di regola le spese forfettarie del 15% e così via. Questo per indicare che non c'è nessuna obbligatorietà, quindi poi vedremo quali saranno gli effetti, speriamo non negativi da parte degli organi che dovranno determinare e liquidare il compenso degli avvocati, quindi il suggerimento che io faccio anche per dare un input alla modalità è di abituarsi fin da ora nella prima ipotesi di naturalmente utilizzare il primo criterio previsto in generale al 2230 AD che è quello dell'accordo e su quello mi pare che non ci sono problemi, predisponendo ad un apposito contratto eccetera e ne parlerò con un altro video messaggio. Mentre in questo caso bisogna sempre predisporre la notula, predisporre la notula e spiegare anche con un repilolo l'attività che è stata svolta con riferimento ad un giudizio, al magistrato nella fase di liquidazione per la sentenza oppure nelle altre fasi quando si rivolge ad un'autorità per farsi liquidare il compenso. Specificare l'attività determina naturalmente la possibilità di una variazione degli importi che arriva fino all'80% e al 100% per la fase istruttoria o di trattazione, quindi l'estensione del decreto ha valutato la possibilità della presenza di numerosi di enti, di attività istruttori, di prove testimoniali, consulenze tecniche che se ben motivate e indicate nella richiesta di liquidazione della notula dovrebbero determinare nel giudice la possibilità di applicarla. Nel sistema delle tabelle che io ho elaborato con il programma, con un libro che troverete pubblicato, che potete scaricare da fuori europeo, sia pure limitatamente alle tabelle, la stampa è in distribuzione e quindi è possibile trovarla in alcune librerie romane oppure richiedere alla segreteria del foro europeo, io ho elaborato e ipotizzato lo sviluppo delle tabelle con anche un minimo e un massimo che è caratterizzato dai parametri generali, chi di voi avrà necessità naturalmente potrà andarsene a vedere, i parametri di cui i parametri generali se ci pensiamo un attimo potrebbero essere collegati a quel sistema precedente che noi avevamo nel sistema delle tariffe che riguarda l'aumento determinato dalla urgenza dell'attività svolta, dalla presenza, dalle caratteristiche, dal pregio dell'attività prestata, dall'importanza, dalla natura, dalla difficoltà dell'affare e dal valore dell'affare, tanto è che il decreto prevede un aumento, dicevo, fino all'80% e fino al 100% per quanto riguarda l'attività svolta, quindi è importante evidenziare al magistrato all'autorità che deve riguardarci la parcella, quella che è l'attività effettivamente svolta. Il decreto prevede e regolamenta quel principio della presenza di più parti, di più clienti o di più controparti che conosciamo con un aumento del 20% fino a un certo numero e poi con una percentuale inferiore al numero successivo, quindi la presenza di più parti nello stesso giudizio, anche nelle caos e riunite, non determinano la possibilità di elaborare notole analitiche per ognuna parte, ma ci obbliga a fare un'unica notole e poi ad applicare i variamenti. Devo aggiungere che sono state predisposte dei commi dei principi per tentare di incentivare gli avvocati ad accelerare l'attività di liquidazione e di conciliazione delle caos. Per esempio, nel lato di è un aumento fino al 30% quando si fa una transazione con riferimento all'attività effettivamente svolta, questo per far recuperare anche l'eventuale fase non svolta. vi è un aumento del 20% del sistema tarifario del compenso quando si porta avanti una separazione consensuale, un divorzio congiunto, oppure ci sono altre formulazioni che si possono ben vedere, per esempio nelle controverse di quell'articolo 240b, 7 del decreto legislativo del 2005-2006. Per la determinazione del valore non ci sono problemi, nel senso che diamo un richiamo ai principi già noti, quindi la determinazione del compenso a carico della parte soccombente, come ben sappiamo, diversa dalla determinazione del compenso a carico del cliente. Il decreto, la settore civile o meglio il settore giudiziale, poi regolamenta due settori sottovoci, oltre che quello generale, tutte le attività e riguarda la disciplina in materia di giustizia amministrativa e in materia tributaria. Sempre il decreto ci individua e ci indica quali sono le cause o meglio i parametri in cui bisogna fare riferimento per le cause di valore indeterminabile e poi naturalmente ci sono altre ipotesi relative ai giudizi non compiuti con una riduzione, la presenza di pluralità di difensori, la presenza dei praticanti abilitati che determinano un abbattimento del 50% del compenso e poi abbiamo per gli abiti la possibilità di applicare come difensori naturalmente i parametri previsti nella tabella allegata al numero 27, una tabella apposita allegata al decreto ministero. C'è ancora una chicca, come possiamo chiamarla, che dobbiamo mettere in evidenza perché è importante, è il procuratore domiciliatario, non era previsto, se l'erano dimenticati creando un grosso problema, oggi il decreto sempre dice di regola al procuratore domiciliatario spetta il 20% della liquidazione del compenso, quindi bisogna fare attenzione perché questo potrebbe essere un grosso problema al momento in cui devo pagare il procuratore e poi c'è anche sempre rimasto in piedi il principio ribadito da diverse sentenze dal Consiglio nazionale da Forense, sempre per il procuratore domiciliatario sull'attività effettivamente svolta. Altre riflessioni in materia di diritto penale, per l'attività penale anche qua abbiamo le fasi, le fasi sono sostanzialmente 4 che sono la fase di studio, l'introduttivo del giudizio, poi abbiamo un'unica tabella, ma all'interno della tabella troviamo una ventina, non lo ricordo esattamente di attività o di autorità ben individuate, quindi con un parametro, anche in questo caso accanto al parametro numerico è possibile il parametro generico che può essere applicato sempre con riferimento alla peculiarità dell'attività svolta, quindi all'urgenza, all'importanza e alle caratteristiche dell'attività. Le altre caratterizzazioni sono quelle ben note, giudizi non compiuti, incarico conferito a società di applicati, praticanti e avvocati e parte civile. Abbiamo anche il problema delle spese forfettarie oltre a quelle generali di cui parleremo fra un attimo. Nell'attività stare giudiziale i parametri sono ben definiti, anche in questo caso, anche se avremo problemi interpretativi relativamente alle tabelle. Abbiamo una tabella prevista per l'attività di assistenza da parte degli avvocati, ci sono i soliti parametri numerici e poi ci sono gli aumenti previsti e relazionati all'attività svolta. Il decreto stabilisce anche l'attività per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali, assistenza all'affare di successione e divisione, affare amministrativi e così via per le regole che devono essere applicate. C'è poi un riferimento specifico con un articolo, esattamente l'articolo 26 del decreto ministeriale dove si parla di prestazioni con compenso percentuale. Anche qua l'estensione del decreto non si è dimenticato di metterci la parola di regola, le parole di regola, proprio per stabilire che non viene nessuna obbligatorietà nella fase di liquidazione e dice che per le prestazioni nell'attivimento di un incarico di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale il compenso è di regola liquidato sulla basso di una percentuale che arriva fino al 5%. Adesso poi bisognerà un attimino vedere come l'interpretazione andrà fatta, mi avviso che l'interpretazione deve essere fatta relativamente alla stessa formulazione del decreto ministeriale. Il decreto ministeriale con la tabella che io indico in numero 26, 26, 27 parla di prestazioni di assistenza stragiudiziale ed è ben chiara, la tabella 27 parla dell'arbitrato, quindi il riferimento, o meglio questa tabella che io chiamo la tabella successiva, la tabella con prestazioni con compensa percentuale potrebbe includere tutte le altre attività che riguardano l'attività di consulenza per la redazione di contratti o di altre attività che naturalmente vengono in dividenza anche perché nella normativa c'è sempre stato inserito il principio dell'applicazione analogica, quindi di volta in volta bisognerà vedere che in applicazione dei precedenti articoli per i compensi rimborsi non regolati da specifiche previsioni sia riguardo alla disposizione del presente decreto che regolano fattispecie analogiche. L'ultima riflessione riguarda le trasferte, sulle trasferte il nuovo provvedimento prevede rimborso naturalmente ai piedi lisi, ci obbliga ad andare massimo ad un albergo a 4 stelle e ci dobbiamo accontentare, questo non l'abbiamo capito perché di regola, di regola, di regola però poi il riconoscimento è solo per un albergo a 4 stelle e poi prevede un'indenità ridicola, un'indenità ridicola perché consente all'avvocato di applicare un 10% in aumento sulle spese sostenute della trasferta, quindi se io vado in trasferta a Milano spendo 100 Euro per il treno, se vado in macchina naturalmente è rimasto il principio di un quinto del costo della benzina oltre l'imbosso e tutto il resto, poi magari vado a pranzo eccetera e poi aggiungo un 10% che sarebbero quelle famose vacazioni che noi abbiamo sempre usato, che erano le vacazioni a rotare e ci consentivano di poter recuperare una serie di importi. Mi pare che come prima riflessione sul nuovo decreto 55 sia pure velocemente esaminato tutti i punti e quindi vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo alla prossima.